benvenuti in questo video oggi faremo il vlog come vedete sono maniche corte perchè c'è caldo facciamo il vlog comunque sgancia qui ma siamo in un posto bello il nostro posto segreto eh quasi tutte i nostri genitori diciamo che non lo sanno sì perché usciamo fuori facciamo una passeggiata e poi ce ne vengono qui e facciamo un po' il di parkour pure e pure io lo so fare porcia tu fatti più avanti che non sei poco no qualcuno di voi dovrebbe riprendere il mio video grazie eh riprende questa vloggina qui tu sto vloggando il mio di vlog ragazzi qua è privato sto coso qua eh lo so se ti toghi se qualcuno di voi potrebbe riprendere faccio percorso stato di qua senza stoppare ok eh vai tu allora riprendi oppure faccio io ragazzi eh ma scusa fai percorrere di me aspetta mi pare che ci stanno chiamando mi devi andare ma ci stanno chiamando no che cazzo è paura ecco questo è il mio cagnolino comunque perché beve qua ma che cazzo che cazzo d'è qua una tv raga porca puttana ce lo voglio mandare l'ho sentito chiamare l'ho sentito ti faccio parkour eh vai fai parkour pronto o senza parlare dovete parlare un attimo perché mi deve essere silenzio ok aspettate un attimo ragazzi ma non dobbiamo parlare Fabi non parlare zitti non è molto parkour sulle auto no di là no io l'ho trovato le chiavi ragazzi una volta sapete vedete un cazzo solo che mi ha messo nella me l'ha perse odio sorama odio sorama ecco la macchina abbandonata la macchina in pratica sta saltando ci sono le vasetti lì io voglio andare a vedere lì dentro oh aspetta Fabi vogliamo spaccare un momento un vasetto così facciamo per il vestito del vlog cerchiamo di non chiedere se ci facciamo male permesso permesso vabbè io me ne vado ciao comunque stiamo ancora vloggando aspetta stiamo vloggando ma io non sto registrando non cazzo no ho fatto pure un parkour vabbè andiamo qui dentro nel castello no perché se c'è qualcosa di merda oh mio cugino se ne va perché si caga sotto vieni già noi andiamo per di qua Matti dove vai? ciao Matti è solo una sbirciata ragazzi che bello oh che bello io me ne vado ciao ciao mi parei lì a vloggare vabbè ragazzi non stiamo andando perché cazzo c'è qualcuno ecco raga siamo arrivati Fabi come è vabbè io me ne vado la mia cugina che sta sempre vloggando pure lei vabbè il vlog finisce qui spero che vi sia vado e ciao